... Dimmi, quant'è che ti danno? Eh? Non ti danno molto, vero? Non sono affari tuoi. Lo sono invece. A me non sembra. Eh, dovevi essere alla fame per adattarti a questo. Può darsi. Quanto ti pagano? Duecento dollari. Duecento dollari, caspita. Sono un mucchio di soldi. Che ne diresti del doppio risparmiandoti un sacco di tempo e di guai? E che dovrei fare per averli? Buttare quell'arma e farmi uscire di qui. Avrai quattrocento dollari. Sarebbero sprecati, visto che tanti tuoi devono comunque venire a liberarti. Oh, verranno. Oh, sì, oltro che. Verranno. solo che a me piace fare le cose in modo tranquillo e pacifico. Vieni qui a vedere una scena di pace e coraggio. Forse c'è qualcuno che conosci. E là davanti è la signora Moose. Al suo fianco è il suo figlio Bob. Ma aveva un altro figlio, Bill Moose. Faceva il vetturale.